Ancora le prese con il virus nonostante la stagione estiva, una situazione della quale abbiamo fatto il punto con la dottoressa Elena De Santis, direttore dell'igiene pubblica nella ASL Toscana Sud-Est. Le positivi al momento oggi sono quasi 7.800 su tutta la Toscana Sud-Est, abbiamo circa 400 casi positivi di ieri, quindi i casi sono in crescita, però questo trend sta per fortuna, seppur sempre in crescita sta leggermente calando, quindi si spera nei prossimi giorni in un appiattimento della curva. Ci dà qualche notizia, non dico notizia positiva, ma qualche speranza che si possa un po' migliorare la situazione? Sì, speriamo che vada migliorando, purtroppo questo è un virus altamente contagioso che elude l'immunità legata sia alla vaccinazione che alla pregressa infezione, tanto che sono molti casi di reinfezione in persone che hanno avuto il Covid anche di recente e si reinfettano. Per fortuna, tra l'altro, sono venute meno le misure di distanziamento, sono venute meno le mascherine, quindi la facilità di contrarre l'infezione ovviamente aumenta. Quello che ci consola è che la situazione dei ricoveri rimane invece pressoché stabile, i ricoveri per Covid, quindi per polmonite intestiziali, sono veramente pochi. Ovviamente i ricoverati con Covid sono tanti, perché essendo tanti nella popolazione generale sono anche tanti tra i ricoverati, ma sono di solito ricoveri legati ad altre morbidità. Intanto il virus muta, abbiamo visto muta molto rapidamente, quindi le nuove varianti non sappiamo mai che caratteristiche hanno. C'è anche da dire che quest'anno, quest'estate rispetto all'estate precedente, sono venute meno, come dicevo prima, le misure di distanziamento. Sono ripartiti i concerti, le feste e quindi gli assembramenti, quindi chiaramente il rischio rispetto all'estate precedente è aumentato. Quello che ci possiamo aspettare, ovviamente nessuno lo può dire con certezza, dipenderà soprattutto dalle nuove varianti, se arriveranno e quale tipo di varianti arriveranno. Ci stiamo preparando ovviamente con le vaccinazioni, sia con il vaccino attualmente in uso che con i vaccini che in autunno dovrebbero arrivare indirizzati proprio contro la variante Omicron, che attualmente non è quella per il quale è specifico il vaccino attualmente in uso. Grazie a tutti.